Mi chiamo Costa Piermario, sono venuto da uno studio di Sanzano e Tirone perché ho delle grosse problematiche con i denti guasti e non potevo andare avanti. Sono soddisfatto, ho trovato un personale molto gentile, molto educato, un'assistenza continua fino ad oggi che ho trovato una conclusione e sono veramente soddisfatto. Non riuscivo più a mangiare niente, poi avevo male, veramente tanto male. Quando sono arrivato mi hanno fatto la pulizia, mi hanno dato quella pastiglietta, mi hanno tranquillizzato veramente tanto. Io non mi sono accorto di niente, non posso dire niente. Ho la paura che avevo togliere un dente, ne ho tolti 13, insomma mi ricordo 11 o 13, è come non avessi tolto niente. Non ho sentito niente, proprio come non fosse nemmeno passato io. Perché non fa piacere trovarsi in mezzo alla gente o avere l'alito pesante e un sorriso non bello. Sono ancora giovane. Grazie. 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 Grazie.